Ieri sera alle 21 in tanti alla chiesa di San Pietro a Gubbio hanno assistito al concerto le musiche di Natale del coro dei cantores Beati Ubaldi, diretto dal maestro Renzo Menichetti. Un appuntamento tradizionale nel clima di festa e fede che anima la città di Gubbio, illuminata dall'albero luminoso più grande del mondo. Una serata speciale per l'atmosfera e un ospite d'eccezione la cantante ed attrice Giulia Luzzi, voce protagonista del musical Romeo e Giulietta, tra i volti più affermati della trasmissione televisiva Tale Quale Show, in esecuzione tradizionali canzoni natalizie e alcuni brani per ricordare il particolare momento difficile che attraversa l'Europa, in particolare la Francia, dopo gli attentati dei mesi scorsi. Negli anni il concerto le musiche di Natale ha visto una crescente partecipazione e affezione popolare. L'organico orchestrale ha aumentato considerevolmente, come d'altra parte, la complessità del repertorio proposto. L'evento ha visto protagonisti di grande rilevanza mediatica, come Jody Tonno nel 2013 e i frate Alessandro Brustenghi nel 2014, detto il tenore di Dio. L'evento ha visto protagonisti di grande rilevanza mediatica, come Jody Tonno nel 2014, detto il tenore di Dio.